C'è quella forma di bagna cauda, di salame o di padella e poi la nave assalita da uno squalo e il pacman. Sono le molteplici forme delle tante automobili che hanno partecipato alla Sopbox Race nel circuito torinese. Una sessantina di buffi veicoli a metà tra l'auto da corsa e il carro allegorico si sono sfidati in un tragitto di un centinaio di metri pieno di ostacoli. La giuria non ha avuto dubbi. Primo per originalità e velocità, per quanto possibile visto che i veicoli vanno soltanto a propulsione umana, il team milanese Let Them Be Rock, tallonato dalla Pollocar a forma di pennuto al forno con le patate. Terza la vettura ispirata alla favola di cappuccetto rosso. Classifica a parte da vedere anche la Salambordini, l'auto a forma di sette di salame e la padella con le uova in fuga per non trasformarsi in una frittata.